Con Stefano Andretta il day after, il giorno dopo di questa bella gara, uno 0-0 che spalanca le porte ad una finale meritata dopo 17 anni, insomma diceva il Presidente, un'altra finale per il calcio conegliano, direi bella gara. Sì, bella gara, bel contorno, due belle partite andate e ritorno e sottolineando che abbiamo giocato contro una squadra importante ma abbiamo fatto due prestazioni di quelle giuste, di quelle che poi lasciano anche il segno perché ti danno tanta carica, tanta autostima ed è stata una qualificazione alla finale strameritata secondo me. Immagino quello che tu puoi aver detto prima della partita, guardate che non è finita, guardate qui, guardate là, però devo dire che li avete aggrediti da subito, non c'è stata storia. Sì, e poi ho anche la fortuna di avere un gruppo di ragazzi intelligenti, una squadra matura che sa perfettamente quello che sono le nostre qualità e la nostra volontà. Ieri hanno applicato per filo e per segno tutto quello che avevamo preparato ma secondo me non c'era neanche da preparare più di tanto, sapevamo che se lasciati giocare loro potevano essere pericolosi perché dalla metà campo in su è una squadra che frasesia molto e è una squadra che già all'andata ha dato delle sensazioni veramente importanti. Per cui abbiamo fatto una partita generosa, di qualità e secondo me il risultato alla fine ci stava anche un po' stretto. Io sul Gazzettino ho fatto i complimenti a Bala perché ha salvato quattro gol che avevate fatto. Sì, sì, merito suo, però anche direi merito nostro che siamo riusciti ad arrivare alla conclusione in maniera importante e speriamo che prima o dopo di riuscire anche a concretizzare un po' il volume di azioni che riusciamo anche a creare. Hai fatto classico turnover perché domenica ti aspetta Porto, Mansuet e Conegliano che per te un po' di ricordi ci sono. Beh sì, sono bei ricordi, sicuramente bei ricordi. Turnover direi anche di no perché comunque come dicevamo in altre occasioni io ho una squadra formata da tanti titolari per cui riesco a farli girare. Qualcuno era un po' in difficoltà a livello fisico, qualcuno aveva qualche acciacco per cui comunque il seno è andata in campo la squadra che stava assolutamente meglio. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.